Signore e signori, ladies and gentlemen, madame, monsieur, ecco a voi il giullare del riciclo. Signore e signore e signore e signore e signore. Signore e 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 sign Oh Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 bravo. Sì, bravo. Sì, bravo. Sì, bravo. Sì. Sì. Sì, bravo. Sì. G. E. G. H. G. K. N. M. G. G. . G. 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 a 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 Come si muove la triccidecina, fai la triccidecina, dai cammina come la triccidecina. Come si muove la triccidecina, dai cammina come la triccidecina, dai cammina come la triccidecina. Chi vota per il casco? Chi vota per la triccidecina? Ok, parola triccidecina. Ok, parola triccidecina, quindi fa un po' così. Stasera io sono il giulare del riciclo. Ma che sembra l'alazzo? Spiega! Tu le ho fatto anche qua. E' un paio. Io sono il giulare del riciclo, io sono come un'attrice del riciclo. Adesso vi faccio vedere come si riciclano i rifiuti. E' un'attrice del riciclo. E' un'attrice del riciclo. E' un'attrice del riciclo. Plastica! Indiperenziata! Quello che non è bambino. E' un'attrice del riciclo. E' un'attrice del riciclo. E' un'attrice del riciclo. Votove означ visiblei che no. No, indiperenziata. Questo ricuolo è bravo! Quella è bravo! Quando è sporco va nella differenziazione. Andiamo. Volete ha indiperenziato la pastorta. Grazie a tutti. 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 con questo. con questo. potete fare... poesia. poesia. a tutti. a tutti. con questo. a tutti. a tutti. a tutti. un po' di anarchia, è un violo con questo potete fare il canuffiare questo vedete da lontano poi per esempio con questo potete cantarvi quando fate la doccia la gallina carnivali e adesso una bella canzone voti per carta i tre portellini un volontario io no dai venite di te allora fate tutto quello che faccio io se ti piace l'inquinamento se ti piace l'inquinamento sei proprio uno sp ottoccoli la carta la devi mettere nei toni della carta e la plastica dei toni della plastica inizio solo il dizionale il dizionale ha solo scarso il dizionale pelizio solo 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. stravissime 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 bravi arrivano soldi soldi per tutti regalo soldi stasera si 100.000 100 euro per me prendilo oh subito per me ti stoppio ehi 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 non vuole venire con me adesso io sarò voi e voi sarete me ok però non vi preoccupate voi non dovete fare niente allora chi è lo spettacolo chi è lo spettacolo stasera? va bene vabbè volevamo maturito ahahah questo era un vero una carica Grazie a tutti. Io sono voi, voi sarete a me. Ah, ma di chi è lo spettacolo stasera? Ah, ma di chi è lo spettacolo stasera? Ah, ma del bagliaccio barotto di Torino. Non fa veramente cagare, fa schifo, fa proprio schifo. Sì, però tanto che qui non c'è mai di silenzio, tanto che qui non c'è mai niente da fare, a mattinata stiamo a guardarlo lo stesso. Ah, ma di chi è lo spettacolo stasera? Ah, ma di chi è lo spettacolo? Ah, ma di chi è lo spettacolo? Oh, ma di chi è lo spettacolo? Ah, ma di chi è lo spettacolo? Ah, mi è piaciuto, io le darei 500 euro. Grazie. Non è finito. Non è finito. Non è finito. Non è finito. Aspettate, lo suitable non è finito. Non è finito. Oh, l'ho appena adesso. Poi vado a buttare. A comprare con i vini che hai detto. No, vede, chiude. Vai vissi per il proficiano. Vissi! Vissi! V mm! Vieni me vissi per il proficiano. Vieni a administration. Vieni, vai. Non è finito, Vieni a pandemia. Vieni ayw. Vieni a mia vissa. Vieni, vieni aicanci ma male. Vieni a hurricanes, ma iniz. Mossingraph. Vieni a live. Vieni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.